Questa che vedete è l'immagine di un PC-12 che decolla negli Stati Uniti durante una bufera di neve. Le immagini sono state filmate dal controllore dell'attore di controllo che è assolutamente incredulo che il pilota abbia deciso di decollare con queste condizioni meteo. Purtroppo però non sono state le condizioni meteo avverse a causare l'incidente ma sono state una serie di altre ragioni molto molto particolari, molto bizzarre perché oggi nella seconda puntata del podcast da pilota a pilota ragazzi voglio analizzare con voi, discutere e prendere spunto per fare un po' di condivisione sicurezza a volo e creare una cultura di sharing come dicono in inglese ossia di chiacchierare, di condividere, di raccontare quando le cose non vanno come dovrebbero in maniera tale da aumentare la sicurezza nel volo di ognuno di noi. E ho selezionato questa storia per un motivo ben preciso nel senso che quasi tutti i motivi dietro a questo incidente sono di natura umana e io trovo che le storie degli incidenti che hanno come motivazione quelle di natura umana sono le più interessanti e vi dico perché io non cerco in questo canale storie sensazionalistiche, grandissimi avvenimenti vedete che sto parlando praticamente niente delle ultime vicende di Boeing chi ha brindisi praticamente non può più andare, non può più atterrare perché ne succede una a settimana ma ecco sono proprio questi racconti della natura umana del pilota dell'aspetto più subconscio o comunque delle varie spinte che abbiamo all'interno di noi a livello psicologico che hanno un ruolo importantissimo sempre nelle nostre azioni e ancor più quando dal nostro agire, quando ci sediamo al posto di comando di un aereo dipende la nostra vita ma anche quella degli altri, dei nostri passeggeri o anche delle persone che sono a terra quindi in questa storia succedono tantissime cose particolari e ce le andiamo a vedere allora questo avvenimento è avvenuto nel 2019 appunto era una gita di famiglia insomma il Pilatus PC-12 per chi non lo conoscesse è un bellissimo bellissimo aereo a nove posti spinto da un motore turbo elica quindi è un motore a reazione che fa girare l'elica quindi fa il suono del jet quando si accende ma vedete l'elica da davanti ed è un aereo estremamente capace con capace intendo dire che ha una grandissima capacità di carico come ho detto nove persone più bagaglio può volare in condizioni meteorologiche strumentali quindi senza dover vedere fuori vola a una discreta velocità nel senso che siamo quasi ai 309 diciamo 260, 270 dipende il settaggio che viene fatto ma soprattutto può decollare e atterrare in spazi molto brevi anche da pista di 600 metri quindi un bellissimo aereo con una gran capacità però ovviamente non può fare miracoli nel senso che deve essere utilizzato all'interno del in aviazione si chiama il suo inviluppo di volo ossia in quel range di pesi, velocità, assetti quindi tutti dei parametri che li permettono di volare in maniera sicura e ovviamente come tutti gli aerei partendo dai cesnini fino ai grandi aerei di linea ci sono delle condizioni meteorologiche delle situazioni dove bisogna saper dire stop, no, oggi non si va ok, questa è la cosa più importante non so se lo sapete che la maggior parte degli incidenti di volo avviene al rientro di solito si va verso una destinazione si vola verso una meta e poi da questa meta bisogna ovviamente tornare indietro ecco, è sempre, sempre no è quasi, è più, diciamo, è più frequente l'incidente nel rientro ok, non so chi ha coniato questo termine però glielo prendo e glielo uso ed è l'arrivite l'arrivite che avrete forse già sentito utilizzare soprattutto sui campi volo diciamo, stai attento all'arrivite è un po' quella serie di elementi che spingono il pilota ad andare un po' oltre quelli che sarebbero i suoi limiti mi spiego un pochettino meglio essenzialmente, ad esempio noi immaginate che ci svegliamo la mattina apriamo le tapparelle e guardiamo fuori ed è una pessima giornata a quel punto decidiamo ok, oggi sai cosa? non volo problema risolto sono a casa mia faccio qualcos'altro fine della storia quando siete in giro fate il caso che siete a fare una gita domenicale domenica pomeriggio andate da qualche parte e poi le condizioni meteorologiche ad esempio peggiorano c'è qualcosa oppure, non so avete un piccolo problema una piccola spia che si accende ogni tanto sul pannello strumenti e vi trovate ad esempio e tra l'altro l'arrivite è cattiva perché più siete vicini a casa peggio è questa è una caratteristica abbastanza brutta cioè se siete molto lontani probabilmente anche se ritardate di un giorno se state facendo il giro dell'Africa non cambia niente che ci mettete un giorno più un giorno meno se invece siete ad esempio a 20 minuti di volo dal vostro aeroclub dal vostro da dove siete partiti essenzialmente la cosa è molto molto più grave quindi bisogna stare molto attenti a questo aspetto e essenzialmente cosa succede? che si sposta diciamo l'asticella del decidere si volo no non volo un pochettino più in avanti ok? quindi viene fatta appunto questa aumentare tutti noi abbiamo un limite no? una soglia entro cui diciamo possiamo procedere e non possiamo procedere questa soglia non è assolutamente fissa appunto questa arrivite entra cattivissima a livello psicologico sul pilota e gli sposta questa asticella più in alto ok ad esempio dicevo siete via domenica pomeriggio condizioni meteorologiche peggiorano capita che se non rientrate probabilmente dovete stare lì dovete prendere un albergo magari lunedì avete una riunione importante da fare al lavoro i figli devono tornare a scuola eccetera 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 allora si dice ok provo ad andare questa cosa è assolutamente pericolosissima un altro caso di arrivite è essere già in volo essere prossimi all'arrivo al proprio aeroporto e trovarsi davanti un temporale un banchi di nebbia una visibilità ridotta per qualche motivo insomma tutte delle situazioni che se stesse incontrando allontanandovi dal vostro aeroporto di casa semplicemente cambiereste rotta o tornereste indietro invece se dovete arrivare proprio lì e ripeto se siete molto vicini questo stimolo è molto molto forte quindi molta attenzione e io credo che di arrivite si tratti nel caso di questa storia il PC-12 era partito da Lidao per andare in South Dakota una gitta familiare purtroppo c'era un'intera famiglia a bordo di questo aereo ok c'erano quattro generazioni il nonno i suoi due figli i figli dei figli e anche il nipote quindi purtroppo quattro generazioni a bordo dodici persone a bordo di questo aereo partiti per andare nel giorno del ringraziamento a fare una battuta di caccia ok fanno la loro gita l'andata tutto liscio il ritorno l'aereo viene parcheggiato fuori all'aperto e la meteo è decisamente decisamente inclemente ok ma analizziamo un attimo prima di andare proprio sul giorno dell'incidente analizziamo un pochettino la vicenda innanzitutto qui parliamo di un aereo molto complesso è un aereo che si pilota con single pilot quindi non richiede un pilota ed un copilota può essere pilotato da un solo pilota e il carico di lavoro comunque è decisamente notevole su un aereo di questo tipo soprattutto quando la meteo è come in questo caso soprattutto quando le cose non vanno come dovrebbero andare il pilota non è un pilota professionista ok non voglio aprire una mega diatriba su questo aspetto nel senso che ci sono ottimi piloti privati bravissimi e ci sono ottimi piloti professionisti bravissimi ci sono anche pessimi piloti privati e pessimi magari pessimi no perché con tutte le prove e i training e gli esami che devo fare in continuazione verrebbe evidenzato più facilmente sicuramente ma ci sono dei non così bravi piloti professionisti quindi non voglio dire che la differenza sta lì ma sicuramente la differenza fa quanto uno è recurrent viene detto in inglese che è proprio la parola giusta che va a identificare questa cosa che vuol dire quanto uno è fresco cioè ricorrente nel senso quanto ha volato recentemente quanto ha quella memoria muscolare quegli istinti quell'attenzione per capire che qualcosa non sta andando come dovrebbe non so se vi è mai spero di sì che vi è capitato di non prendere la macchina per una settimana o due facciamo il caso che andate in vacanza e non guidate durante quel periodo non so se fate caso quando tornate sulla macchina o sulla moto o sugli sci in inverno insomma su un mezzo che non usate quotidianamente noterete che soprattutto all'inizio siete un po' come si dice no? arrugginiti cioè vi mancano un po' quegli automatismi che avete invece normalmente quando quel mezzo lo utilizzate in continuazione ecco questo è proprio quello che all'ennesima potenza succede in volo nel senso che il volo ovviamente ha tutte delle sue procedure per cercare di evitare di fare grandi omissioni grave quindi vengono utilizzate delle checklist vengono utilizzati vari sistemi che permettono di assicurarsi che non basti una dimenticanza per far sì che un problema grosso succeda queste checklist vengono usate sempre e anche da piloti che volano tutti i giorni diverse ore al giorno quindi ad esempio gli aerei di linea due piloti a bordo sempre viene utilizzata la checklist obbligatoriamente mandatori viene utilizzata una checklist e però si perdono come dicevo questi automatismi questi attenzioni al dettaglio che quando non utilizzate un mezzo da diverso tempo voi sicuramente non riuscite a notare quel dettaglio piccolo perché siete concentrati la vostra attenzione è dedicata e dedita alla conduzione del mezzo al fare il tutto come si deve e il pilota in questo caso come dicevo non è pilota professionista è un pilota con discrete ore ma che l'ultima voce sul suo logbook risale a ben un anno prima e l'NTSB che è l'ente diciamo americano che fa le analisi gli studi degli incidenti che è andata a prendere questa vicenda e analizzare tutto e come vedremo nel corso del video è un video lungo ma ripeto questo vuole non essere un video sensazionalista vuole essere un video di analisi quindi può anche essere sentito per quello che lo chiamo podcast e voglio andare a fondo come vedrete ci sono degli elementi veramente veramente importanti ma fortuna nostra ci sono tantissimi dati perché questo aereo era dotato di la famosa scatola nera insomma che registra tutto dall'abitacolo che registra tutti i parametri del volo quindi siamo riusciti sono riusciti a identificare proprio esattamente quali sono state le cause di questo incidente e il pilota come ho detto aveva l'ultima voce sul libretto di volo a un anno fa e hanno dovuto risalire tramite interviste a piloti amici filmati per capire come mai non ci fossero altre voci nel libretto di volo libretto di volo che tra l'altro l'ultima voce che riportava non solo era un anno precedente ma era un volo di diciamo di aggiornamento con un istruttore quindi un refresh viene fatto che viene fatto quando proprio l'attività di volo è scarsa e quindi c'è bisogno di mantenerla con un per mantenerla corrente recurrency scusate gli inglesismi ma queste parole sono quasi sempre quasi esclusivamente in inglese quindi mi trovo a volte un po' costretto a cambiare lingua a switchare lingua adesso stavo dicendo e quindi per essere current per essere proprio abile a volare uno deve fare 8 ore o dei check con un istruttore o dipende dall'abilitazione che avete entrambe quindi l'ultima voce era un anno prima e da interviste e varie da varie fonti diverse è emerso che aveva un pochettino volato nei mesi precedenti e negli ultimi 30 giorni aveva fatto due ore di volo due ore di volo che probabilmente sono quelle che aveva fatto nel volo d'andata per andare dove erano arrivati in South Dakota quindi non molto e questo sicuramente è un primo elemento di stress umano cioè risalire su un aereo dopo diverso tempo anche se l'aereo è tuo anche se in teoria lo conosci bene mancano degli automatismi il secondo stress sicuramente è il fatto di avere tutta la famiglia a bordo cioè si vola questo ve lo dico da pilota e altri piloti che state guardando se è anche il caso vostro per favore commentate sotto perché vorrei proprio aprire un dibattito a riguardo quando si vola con la propria famiglia a bordo lo stress è decisamente maggiore perché si sente si ha si sente perché si ha la responsabilità di persone a cui si vuole un bene infinito non è la stessa cosa andare in volo da solo non è la stessa cosa andare in volo con un amico un conoscente un passeggero diciamo più neutrale nella nostra vita cambia tantissimo andare in volo con i propri figli con il proprio papà con i propri nipoti quindi è una situazione molto più di responsabilità soprattutto quando lo andiamo a combinare con la rivite cioè vi ho portati io in gita a questa destinazione dovete tutti fare delle vostre cose domani quindi è il mio compito riportarvi indietro ok e perché faccio così tanta pressione sull'aspetto della rivite faccio pressione sull'aspetto della rivite perché in questo caso quando si sono presentati la mattina per rientrare al loro PC-12 si sono trovati signori un aereo assolutamente ricoperto di ghiaccio ok cioè letteralmente l'aereo era coperto da un spesso strato di ghiaccio e in questo caso ok non so se voi lo sapete gli aerei devono partire con l'aereo in condizioni perfette cioè nel senso il ghiaccio deve essere rimosso rimosso totalmente cioè gli aerei hanno dei sistemi di anti-icing o dei sistemi di pulizia delle superfici di volo dal ghiaccio ma nel momento in cui decorano bisogna partire con un aereo pulito essendo questo aspetto del ghiaccio molto interessante soprattutto ai piloti o comunque appassionati di volo che mi seguono ci seguono e vedendo questo video ho deciso di chiamare in ballo insomma chiamare l'aiuto da casa e vi mando adesso un clip di un'intervista che ho fatto a Ludovico un ingegnere che ci spiega un po' meglio nel dettaglio la differenza tra anti-icing e insomma non c'è come il pane italiano di tra il sistema di anti-ghiaccio e lo sghiacciamento che viene fatto a terra come viene fatto cosa viene fatto insomma lanciamo la clip e ci rivediamo qua subito dopo ed eccoci qua ragazzi con il nostro buon Ludovico che ringrazio anche di persona di essere qui con noi in questa intervista o comunque questo approfondimento ulteriore per non raccontare soltanto la storia come dicevo prima ma proprio per approfondire un po' anche l'aspetto tecnico fare un po' di indagine quindi ho deciso di coinvolgerlo Ludo è un ingegnere quindi la parte tecnica la mastica a colazione lui colazione Cirios e Bulloni è appassionato di volo ci siamo conosciuti a Calciate del Pesce in aeroporto Lima India Lima Charlie entrambi piloti di aliante lui è un suo aliante possiamo dirlo possiamo dirlo un discos della Schempirt e oggi ci parla un po' di quali sistemi avrebbero dovuto funzionare nel caso del nostro Pilatus insomma cosa è andato storto dal punto di vista tecnico quindi la parte pilota la lasciamo per dopo adesso andiamo a vedere o no Ludo un po' la parte dell'antighiaccio le tante cose che sono antistorte perché il ghiaccio è un problema presente e annoso in aeronautica come vedremo e in questo caso è andato storto dalla fase a terra quindi la fase di de-icing dove si va a rimuovere il ghiaccio accumulatosi dall'aeromobile e anche è andata storta la fase di anti-icing che diciamo che probabilmente non ha neppure potuto iniziare a funzionare visto l'anti-icing il de-icing scusate hobbistico che è stato fatto a terra purtroppo tramite la scala allora in questo caso specifico addirittura il peso del ghiaccio stesso accumulato sulla superficie superiore del piano di coda è stato influente nello spostare il centro di gravità ancora ulteriore ulteriormente indietro rispetto al valore dove sarebbe stato senza ghiaccio accumulato che era comunque già fuori dai limiti quindi ci troviamo di fronte ha due problemi da risolvere il primo è quello del de-ice cioè rimuove del ghiaccio accumulatosi principalmente a causa di precipitazioni da un aeromobile parcheggiato sul sull'apron si fa in una o due fasi tramite i mezzi non meccanici a parte sul nostro cesnino la scopina non va bene la scopina non va bene oddio esistono anche fluidi di de-ice come adesso vedremo approvati per essere spruzzati a mano ma parliamo proprio di casi da bush pilot dell'alaska a livello professionale a livello sicuramente è un pc12 si fa un prima di recarsi alla pista di decollo si fa un lavaggio dell'aeromobile con acqua calda più gliccole o alcol allo scopo di sciogliere il ghiaccio già presente sulla struttura e farlo di fatto finire sulla superficie dell'asfaltato a me capita quando volo con aerei di linea in inverno di vedere questi uomini su questa gru braccio mobile diciamo che praticamente si muovono lungo la superficie dell'ala con questa mega canna dell'acqua passami il termine che questa lancia che spruzza proprio un sacco di liquido su soprattutto bordo d'attacco dell'ala è lo stesso liquido sono liquidi diversi allora ci sono liquidi ci sono molti liquidi diversi poi come come ogni cosa dov'è coinvolta la chimica e la sicurezza si apre si apre assolutamente un mondo esistono liquidi pensati proprio principalmente per quella che è la rimozione del ghiaccio già accumulato o esistono anche dei liquidi pensati per impedire in un modo diciamo estemporaneo quantomeno durante la fase di rullaggio l'accumulo di ghiaccio dovuto a precipitazione vi ho selezionato proprio per a scopo esemplificativo un'immagine che adesso vedete a schermo che rappresenta proprio le specifiche di un liquido ho scelto un liquido qualunque da quelli elencati nell'elenco dei liquidi approvati dall'FIA questo liquido fa riferimento è un liquido anti-ice per la fase appunto di umidazione a terra quindi dopo aver fatto un primo se necessario dovuto ad accumuli un primo de-icing appunto con acqua calda e con e con con glicole o etilene si va a applicare questo secondo liquido che impedisce l'accumulo di ghiaccio mentre mentre si atterra vedete infatti con questa tabella che c'è una relazione fra la temperatura ambiente e umidità e per questo specifico liquido il tempo massimo che intercorre fra l'applicazione del liquido stesso e il decollo quindi abbiamo un tempo massimo di attesa perché l'icing è un problema assolutamente serissimo cosa causa oltre all'aumento di massa ma che se arriviamo con l'icing a un problema di massa vuol dire che siamo già siamo già proprio in una situazione terrificante si arriva ad avere un'alterazione del profilo alare ho cercato uno studio uno studio in merito che conteneva delle immagini adesso ne vedete una che mostra come cambia il coefficiente di drag il coefficiente di lift anche solo con un accumulo di ghiaccio minimale parliamo di pochi millimetri sul bordo d'attacco che va a causare una separazione del flusso direttamente proprio sul bordo d'attacco e quindi l'ala smette a tutti gli effetti di essere un'ala vediamo anche il profilo non è laminar ad esempio noi lo sappiamo bene con i diruttori che sono proprio quelle parti che vengono fuori dall'ala il tirarli fuori pochi millimetri già è metà della loro efficienza dopo all'altra parte è una resistenza all'aria ma è proprio quel rompere quel profilo dell'ala proprio quel flusso laminare che toglie drasticamente l'efficienza di solito questi problemi di ghiaccio li vediamo in volo nel senso che un aereo che magari entra in una nube con più ghiaccio del previsto oppure senza i dovuti sistemi si trova ad accumulare ghiaccio e questo sull'aereo comporta un aumento della velocità di stallo perché l'ala porta meno funziona meno bene e quindi vuol dire che l'aereo stalla anche se va veloce non è che l'aereo rallenta ma si trova in una situazione che a 200 all'ora a 100 nodi a 150 nodi già stalla sono venuti giù anche degli ATR ad esempio sono dei casi famosi che sono purtroppo caduti per il ghiaccio però in questo caso era proprio una cosa da terra cioè c'è da ricordarsi che volare non è obbligatorio questo io direi possiamo partire da lì cioè nel senso vedendo queste immagini di come era questa pista come erano le condizioni di quel giorno io avrei rinviato anche il volo non è che era obbligatorio partire in quel modo soprattutto senza i dovuti sistemi di antichiaggio ma assolutamente è meglio essere per terra sognando di essere in aria che essere in aria sognando di essere per terra e sì quindi in questo specifico caso è stato fatto un de ice approssimativo e poi artigianale oserei dire purtroppo e poi non è stato fatto neanche scusate un anti ice per la fase di rullaggio ma decollando con un aereo con il piano di coda già coperto di neve anche l'attivazione del sistema di de icing in questo caso fatto a boot pneumatici non avrebbe cambiato molto quel elemento di quel fattore che ha contribuito un incidente nel senso non importa che sistema anti ghiaccio abbiamo in qualsiasi condizionamento bisogna partire con l'aereo pulito quindi in questo caso il problema è stato quello se non si può pulire se non c'è il sistema se non c'è una scala lunga giusta se non c'è una scopa di saggina durissima non si vola no Dudo grazie speriamo che questa sia la prima di diverse volte un piacere averti qua super volentieri super volentieri grazie mille Emilio continuo a seguirti alla prossima ciao ciao quindi come abbiamo visto abbiamo dei sistemi veramente veramente complessi per l'antighiaccio ma tanti sono stati problemi quindi primo c'è stato l'aspetto psicologico di non essere molto corrente per l'aereo in corso secondo la pressione al rientro la rivite per avere su tutta la famiglia tutti che devono rientrare assolutamente per impegni vari situazione di ghiaccio non risolta nel senso che l'aereo doveva partire assolutamente pulito in realtà come abbiamo visto non è riuscito a pulire soprattutto le parti del piano di coda vi faccio vedere un'immagine guardate questa è proprio l'immagine del pilota che sta cercando di togliere il ghiaccio dalle superfici come abbiamo visto prima ci sono dei sistemi professionali da utilizzare di certo non una scopa ma spostiamo l'attenzione non dall'ala ma su il piano di coda ecco guardiamo qua guardate proprio la deriva la parte verticale dell'aereo come ci sia su un blocco bello solido di ghiaccio nonostante sia stato hanno cercato di rimuoverlo come vedete nella parte destra è leggermente meno ma comunque è molto presente questo come abbiamo visto comporta due problemi il cambiamento del flusso da laminare a turbo lento non in un punto previsto ma soprattutto il peso e il peso è un altro elemento fondamentale in questa vicenda difatti come non so se ci avete fatto caso prima l'ho menzionato un po' tra le righe il Pilatus è un aereo che porta nove passeggeri più pilota dieci persone a bordo erano in dodici poi si sono salvati in tre non so come e non so purtroppo in che condizioni sono al momento ma erano dodici passeggeri a bordo vi faccio vedere l'interno ecco questo è l'interno dell'abitacolo e come vedete cioè non non è allora già è grave in macchina ok cioè già è grave sulla macchina se andate in sei anziché cinque se prendete un bambino lo tenete in braccio per ovvi motivi su un aereo è mille volte peggio ok perché l'aereo vola e ci sono due problemi grossi quando voi andate fuori fuori schema con i pesi probabilmente i due passeggeri a bordo in più erano appunto i bambini presenti ma prima cosa non erano sotto i due anni perché non so chi di voi lo sa sotto i due anni un passeggero può essere tenuto in braccio può essere trasportato a bordo tant'è che quando prenotate ad esempio un biglietto aereo con una qualsiasi compagnia fino a due anni potete anche scegliere di non assegnargli un sedile suo ma potete tenerlo in braccio che è un'impresa ma questa è un'altra vicenda in questo caso 12 passeggeri a bordo aumentare il peso comporta due conseguenze la prima è che proprio aumenta il peso a bordo però questo in realtà non dipende da quanti passeggeri sono sopra nel senso che se voi mettete ci sono passeggeri passeggeri potreste dire tu puoi mettere 10 passeggeri magri oppure mettere 6 passeggeri enormi e sono peggio i 6 passeggeri enormi che i 10 passeggeri ma comunque mettene 12 su un aereo da 10 sicuramente stai andando a caricare molto poi ricordiamo weekend via in famiglia battuta di caccia chissà quanta roba avevano dietro con loro quindi l'aereo sicuramente era molto molto pesante ma l'aspetto cruciale è che sugli aerei dipende non solo quanto peso c'è su ma anche dove viene sistemato il peso cioè il famoso centro di gravità i pesi devono essere presenti sull'aereo con un posizionamento che permette all'aereo di stare all'interno di un determinato range di centro di gravità il range di centro di gravità di un aereo è praticamente l'avanzamento o l'arretramento del punto cardine di equilibrio dell'aereo che deve essere all'interno di due limiti limite massimo anteriore e limite massimo posteriore tendenzialmente gli aerei devono sempre avere un punto di equilibrio che è leggermente in avanti ok vi spiego perché l'aereo deve avere un peso leggermente in avanti per il fatto che quando si trova magari in una situazione di stallo o una velocità ridotta o un angolo d'attacco troppo alto insomma questa situazione e le ali smettono di sostenere l'aereo correttamente l'aereo comincia a cadere e quindi la parte più pesante va giù in avanti ok andando giù in avanti l'aereo prende velocità e quindi esce dallo stallo se ci troviamo con il peso spostato verso la parte posteriore dell'aereo se l'aereo esce dal suo equilibrio quindi va in stallo perde appunto l'efficacia le superfici mobili di volo che possono tenere l'assetto in quel caso l'aereo avrà la parte posteriore che va giù e quindi l'aereo comincia ad accelerare indietro sa va a san dir che l'aereo a quel punto precipita perché non uscirà mai da questa situazione andrà giù con la coda e fine dei giochi ok quindi è importante sia non essere troppo pesanti sia non avere il peso troppo indietro ok in questo caso purtroppo c'è una combinazione delle due cose cioè sia un peso molto molto elevato che un peso decisamente indietro e il ghiaccio sulla coda sicuramente ha sconvolto ulteriormente questi parametri perché è un peso messo là dietro con il braccio di leva di tutta la fusoliera potete immaginare quanto è andato a spostare il punto di equilibrio all'indietro andiamo avanti quindi aereo ghiacciato peso molto oltre i limiti sia di posizionamento che come peso massimo condizioni meteorologiche assolutamente pessime pilota non molto fresco molto recurrent a volare l'aereo tutta la famiglia a bordo la situazione non è buona i controllori di volo nelle comunicazioni radio hanno diverse volte avvisato il pilota di non decollare ma l'aeroporto non operava con modalità di autorizzazione e non autorizzazione quindi non potevano dire non autorizzato al decollo in quanto resta come si dice in gergo a discrezione del pilota operare e il pilota ha deciso di proseguire le operazioni l'aereo corre lungo la pista di decollo e già nel decollo c'è qualcosa che non va nel senso che l'aereo innanzitutto doveva decollare più veloce dovuto al carico invece stacca le ruote da terra con otto nodi meno del richiesto ma non è soltanto la velocità più ridotta che causa problema ma è anche la velocità a cui avviene la rotazione questo che vedete qua è una tabella dove viene comparato Kirk che è il nome del pilota di questa storia come ha eseguito il decollo e come viene eseguito normalmente da altri piloti ok se vedete il target di salita 9 gradi e quanto il muso è alzato sull'orizzonte va bene ma ci sono due parametri che sono fuori tabella rispetto lo standard il primo è la rotation rate rotation rate si intende proprio la velocità a cui con cui noi cambiamo i gradi rispetto all'orizzonte è più difficile da dire da farsi c'è la velocità con cui noi andiamo ad alzare il muso in cui cabriamo l'aereo in cui cambiamo l'angolo delle ali normalmente si fa 3 gradi al secondo su questo aereo la rotazione invece avviene a 4.3 quindi vuol dire che in altre parole è una rotazione molto molto più brusca ok e l'altro parametro è il pitch angle cioè l'angolo di diciamo cioè l'angolo di picchiata il pitch angle il pitch è proprio il cabre picchia viene chiamato in italiano quindi come messo il muso rispetto all'orizzonte e all'inizio appunto viene tirato su molto di più oscilla e va da 11.8 a 15.8 ok incredibile come le scatole recorder le scatole nere prendono tutti tutti i dati e si riesca a capire veramente veramente tutto questo fa una sicurezza volo una cultura di sicurezza volo incredibile quindi cosa portiamo a casa da questi numeri ok come concetto nostro mentre vogliamo la rotazione nella corsa di collo deve essere morbida ok non bisogna aggrapparsi alla croche e tirare indietro bruscamente bisogna fare una transizione morbida perché sicuramente facilita il volo all'aereo gli aerei giusti con i pesi giusti con la motorizzazione che funziona bene senza mente si mettono quasi in volo da soli ok in questo caso sicuramente lui si è trovato con condizioni meteo brutte l'aereo estremamente carico il fine pista che approcciava e comunque la visibilità era pessima lui voleva togliersi di lì e quindi andare su in volo sfruttare la spinta del motore che si ritrova con 750 cavalli e andare via da quella brutta situazione purtroppo per lui e per gli altri occupanti non è la strategia migliore in questo caso quindi una brusca cabrata porta alla situazione successiva vediamo e qui arriviamo a questo grafico che in modo molto aritmetico e matematico mostra cosa è successo e perché un aereo così affidabile così incredibile non ha potuto fare nulla per fermare l'idiozia del comandante in questo caso per chi ha portato all'incidente essenzialmente come abbiamo detto il decollo è avvenuto molto lento molto pesante con un carico spostato oltre il punto di center of gravity di centro di gravità dell'aereo e una richiamata per staccare le ruote da terra decisamente brusca questo ha portato che appena dopo il decollo lo vedete qua sopra sulla mia testa essenzialmente lui va questo è un grafico dove mostra pull and push cioè tirare e spingere le superfici di volo il Kirk il pilota lui va a tirare tantissimo il la cloche dell'aereo per guadagnare quota cosa fa così facendo però ovviamente aumenta l'angolo d'attacco riduce la velocità e con le premesse che ho detto finora l'aereo rischia di andare in stallo rischia di andare in stallo e l'aereo ha un sistema di difesa dallo stallo come funziona tale sistema tale sistema comincia a fare un avviso acustico all'interno della cabina fa tremare la cloche come segnale proprio fisico si sente che bisogna spingere in avanti la cloche perché bisogna spingere in avanti che spingendola in avanti andiamo a ridurre l'angolo d'attacco permettiamo all'aereo di prendere velocità e quindi di uscire dalla situazione di stallo ovviamente ci vuole aria sotto l'aereo per recuperare da uno stallo in maniera corretta fare uno stallo appena dopo decollati non è un'ottima idea quindi quindi il comando il sistema antistallo spinge in avanti la cloche quindi vedete proprio queste picchi verso il basso di push e ovviamente la reazione istintiva del pilota Kierke è quello di tirare indietro ulteriormente quindi va a tirare su e quindi ci sono queste oscillazioni che vedete aumentano quindi all'inizio sono più leggere poi diventano veramente violente dove proprio il sistema di antistallo spinge avantissimi i comandi lui nel panico più totale tira indietro appena il sistema glielo permette lui si ritira la cloche in pancia e questo mette l'aereo assolutamente in una situazione di instabilità totale che porta allo stallo vediamo il grafico dell'incidente come vedete il volo è durato veramente 30 secondi questo è stato il decollo poi una virata a sinistra e subito i problemi sono stati evidenti e questo mi ricollego all'inizio della puntata del podcast di oggi proprio all'aspetto del quanto non conti la distanza di volo che andiamo a volare ma anzi più si avvicini casa più ci si mette spesso in difficoltà perché in questo caso non bisognava decollare sicuramente con 12 persone a bordo rispetto 10 non bisognava decollare in quelle condizioni meteo non bisognava volare in un volo così complesso non essendo così freschi nel pilotare un aereo di questo tipo e soprattutto la gestione dei pesi e della procedura di decollo andava rivisto l'aereo decolla subito vira leggermente verso sinistra prende un po' quota ma con le oscillazioni che abbiamo appena visto arriva a uno stallo così profondo che ovviamente a un certo punto le ali non hanno più sostenuto l'aereo e quindi a pochi veramente pochi pochi metri dalla pista di decollo un aereo perfettamente funzionante senza nessun problema tecnico non ha avuto avaria a motori o superfici di volo non ha avuto avaria di nessun tipo precipita portandosi dietro la vita di 9 dei 12 occupanti insomma questo incidente è totalmente riconducibile questo incidente è totalmente riconducibile a conseguenze umane errori umane spinte da vari elementi ok sicuramente l'incoscienza c'è una grandissima responsabilità del pilota ma altri elementi che non ecco questo è l'ultimo passaggio di un'analisi di una situazione di questo tipo che non bisogna mai pensare io una cosa così stupida non la farei mai io sono molto più bravo più saggio più responsabile sono sono meglio e quindi questa storia non mi tocca perché non è così ok tocca a tutti probabilmente molti di voi anzi mi voglio augurare che molti di voi non arriviate a fare delle scelte così scelerate avere un'incoscienza così estrema però sicuramente in parte minore certi elementi vi possono toccare ok vi ho fatto l'esempio prima del rientro a casa delle condizioni che peggiorano un'altra situazione che genera uno stress di questo tipo è una gita di gruppo rispetto a volare da soli quindi quando si vola da soli col proprio aereo uno ha i suoi tempi quando si fa un volo di gruppo un ride un tour io ho fatto il tour ad esempio di tutta Italia con gli ultraleggeri siamo partiti da in provincia di Milano e siamo arrivati fino a Lecce ecco volando in gruppo gli altri sono partiti devo partire il tempo per la checklist il tempo per i controlli mi raccomando tenerlo sempre tenerlo sempre non non bisogna limare gli angoli della sicurezza perché poi in anellare una cosa all'altra 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 tirano giù addirittura un aereo che ripeto è un aereo incredibile cioè il PC12 in condizioni giuste sarebbe potuto partire da questa pista avesse ricevuto uno sbrinamento uno sghiacciamento fatto come si deve fosse decollato con i pesi giusti fosse decollato con un centro di gravità all'interno del inviluppo di volo corretto e soprattutto avesse eseguito una procedura di decollo standard quindi non tirando sul muso così bruscamente a una velocità così inferiore rispetto a quella richiesta per il massimo takeoff weight mtow maximum takeoff weight e insomma questa è la storia di oggi mi raccomando lezione di sicurezza volo non inanellare tutti gli elementi i tempi la rivite e la metodologia vanno sempre considerati per stare in sicurezza ragazzi io spero che questa riflessione questa analisi vi abbia dato spunto per aumentare ulteriormente la vostra sicurezza di volo oppure se siete appassionati e non siete piloti vi abbia incuriosito a quelle che sono le dinamiche e cosa colpisce un pilota non solo a livello tecnico ma anche a livello psicologico cosa c'è dietro l'essere pilota ragazzi io vi invito a seguire il canale e il nostro podcast se vi piacciono questo tipo di puntate noi ci vediamo la prossima se vi è piaciuto e siete ancora qua mi raccomando un pollice ci aiuta tantissimo a far conoscere questo contenuto ad altri appassionati come voi buona continuazione ciao ciao